bella raga c'è anche la jessica ovviamente oggi siamo in direzione varano de melegari per l'open pit lane e oggi è lunedì 4 settembre l'open pit lane che sarà dalle 14 alle 17 30 quindi si può entrare uscire come si vuole o devo provare le pastiglie nuove ho messo delle vc blu staff e quindi voglio provare se tiene un po di più la frenata soprattutto quando si riscaldano i freni la tannica ovviamente perde e praticamente per venire qua siamo dovuti andare con giù i finestrini altrimenti altrimenti morivamo già ci è venuto un mal di testa cosa mangi di buono si prima si è mangiata una focaccia gossa così è però vabbè non so com'è non so com'è non so com'è vabbè non so com'è non so com'è non so com'è ok entriamo facciamo qualche giro tranquillo perché devo finire di rodare le pastiglie dei freni e vediamo un po come vanno le pressioni delle gomme vuol dire che le pastiglie dei freni si sono comportate veramente bene anche le gomme hanno lavorato top questa open bellissima trazione posteriore fatta tutta la pista di un ragazzo di modena abbiamo la gt3 un'altra Porsche un ragazzo di gt3 un ragazzo di gto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti È andato tutto bene Andiamo a casa E pronti per la prossima avventura Oh Oh Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti